Io credo a tutti che non è pensabile di fare contraffa alla corruzione facendo concorrenza all'azienda con l'impedione però cosa si può fare? C'è sempre le persone in vendita di soli perché se le persone non sono in vendita di soli la tentazione è interesistibile posso raccontarmi un po' di due ricordi? credo ormai quasi è di due anni fa venne da me un ufficiale della regina di carità e mi disse vorrei parlare riservatamente io sono in ufficio e lui mi disse guarda io ho un uomo che se te ne hai fatto arrestare circa 130 anni e porto a cui appartengo ci sto più a me ritengo di male ma dopo quello che mi è accaduto penso che abbia ragione lei e porto a lei capizia a tutti gli anni il fatto che il risultato si paga percepiva nel 1994 con una c5 due video di scopse di pianiera a mese dappunti toglievano tra il sito della logica magnana e la rilautazione retrativa della sito un migliore di scopse di pianiera a mese per cui credeva detto la mamma è un migliore di pianiera a mese dice mia moglie non lavora perché abbiamo una bambina di due anni un amico di un uesimo nessuno è andato a lavoro per gli ufficiali si non potrebbe costruire i segimenti quindi per farle parlare vorrei intervenire io ma a questo punto per fare i segimenti di governo sono andato la mia mamma di regione a credere non mi sono cosa a domandare gli indi e qualcuno mi ha risposto ma perché le fanno tutti questi figli un po' come io non mi spesso anche la settimana lì non si è andato se la voce già le carriera non per fare un figlio ma due e si è andato a domandare per chi è di ritorno e gli ha detto ma come mai si lamenta solo lei gli altri si è vinto e lui ha detto se sono generati se sono diventato con questa cosa se ne ha infatti ci sono fatta le fanno qui le fanno ovviamente la morte può evitare questa forturia non mi ha giusto ecco negli stessi giorni in cui voleva farvi questo discorso un maresciallo di suoi dipendenze ha arrestato in frattanza un imprenditore che gli ha offerto 200 milioni di lire per non approfondire una legge ora una legge dura di tre giorni quindi nemmeno di un mese dura di più oltre fanno un giorno di tre comunque alla fine fanno tre i pregetti allora se la differenza un milione netto a mese o 200 milioni di netto a mese quando non riesce più ad avvallaggiare i politici deve esistere di un essere santi e roma nessuna amministrazione che partirebbe un posto che tutti i suoi concorrenti siano santi e roma quindi non si può fare concorrenza di una fede oltre e non si può tenere gente di danni dal bisogno per esempio invece i dati dall'olio domani che si deve pagare così caro caglieranno più servizi come fanno i cambiamenti e infatti la salva di finanza si deve salvare i loro servizi e lo carificate perché capite bene non ha un senso dare un milione di grandi esenette e scriverlo a portare migliari dagli altri cioè solo uno Stato non può essere elevato per fare questo che succede ma è un problema anche questo l'altra cosa da fare è restituire agli unitari e agli enti pubblici i corpi tecnici che semplicemente non esistono i corpi tecnici dello Stato sono stati indistrutti il coste analizzato del centro fu progettato dall'ingegneria di unitario quasi tutte le stazioni ferroviare delle quelle grandissime sono state progettate e realizzate come di un frenatore dall'ingegneria di unitario del ferroviare oggi non credo che gli militari si è di grado di progettare e realizzare un ragionatore di un'opera di un'analitare del centro e vedo che le informazioni sono sempre più frequente associati di un'ingegneria esterna per le progettazioni figuratevi se è successo questo nello Stato o non è a caso proprio di un territoriale semplicemente le pubbliche amministrazioni oggi in Italia in più delle volte non sono neanche in grado di sapere quello che hanno bisogno hanno bisogno già una consulenza per sapere che cosa si sente e siccome i consulenti della pubblica amministrazione sto parlando di consulenti per bene non di là parlo di consulenti per bene sono normalmente professionisti che stanno anche a altre cose nella vita e quindi hanno rapporti con le imprese occasionali il loro rapporto con la pubblica amministrazione è di tutta che non potranno mai mettersi in rotta collisione con i loro clienti con i loro clienti a quali passate o potenzialmente future per cui per esempio i collaudi affidati a questi esterni è difficile con il rigore con cui potrebbero avvenire se fossero tecnici e tecnici di amministrazione certo questi tecnici di amministrazione non è il grado di fatto se invece per anni è ancora una volta nel corso reprodutivo lo schiacciamento dei locali economici ha fatto giù un ingegnere guadagnasse 100 milioni al mese di una rotina affettava se ci sono andati quindi la strada per una prevenzione secca molto molto fiscosa molto attraverata e non sta nelle norme che sembrano che le sono invocate sempre più di frequente che sembrano aver trovato la soluzione compiando da paesi che hanno realtà più diversi per esempio si è previsto per la legge sederino dire responsabile in ogni amministrazione della tradizione della rotina scegliendo un ingegnere prima nasce e di solito un candidato è un artigo non è un strumento per conoscere eventuali punti ma che verrà punito se per la nostra opera c'è una funzione il che vuol dire che in quattro migliore facciamo i sacrifici di l'ipotesi peggiori poterà coprire perché si scopre il cilio di seconda questione che sembra il numero da cavare degli edilocali territoriale è stato stabilito che il responsabile della produzione fosse il scettario umano e qui si poteva dire che è cosa che non è il scettario umano è tra l'administrazione e quindi che si un po' di più il dirigente che è un classico un soggetto che potrebbe forse intervenire ma soprattutto pare da me siano ingenue o comunque fuori dal centro fuori dai cambi informativi tutte quelle speranze imposte sul risposte ci si dimentica che i funzionari politici sono in genere pubblici ufficiali o quanto in mercato di servizio se nel servizio a causa delle loro funzioni vengono a conoscere un reato non lo si dire luce se non come è un reato loro ma di cosa stanno parlando se si può proteggere il discorso beh venga ma se l'idea è che in questo modo abbiamo le segnalazioni anonime salvo che non sono ovviamente però anche solo di subito al diritto al produttore non ha molto senso investire su questa figura non si mai ha senso investire su con le pubblici che non è soltanto la condanna ma ha il potere di segnalare questi fatti perché sennò la comincia si era di te e la normativa sulle parti è una grande altra illusione noi da dettaglio continuiamo a scoprire normative sulle parti sempre più rigorose sempre più difficili da esistire tra le un'unità di che sotto le imprese e di tutta roba che non si ha niente a niente perché ecco a tutti passi in un territoratorio reso di niente non si provate a luce di poi è un'altra non posso dire che non ho usato anche perché è notevole risalato di un manager un'importante manager di un'altrettanto importante azienda partecipazione estetale il quale parlando di un mente di cui non faccio no perché non è importante è importante il meccanismo diceva questo la persona che si muove posso dire che da molti anni funziona un cartello di circa 200 imprese e si riuniscono periodicamente vedono le opere che sono andate devono andare in possibile amministrazione e decidono come deve essere acquati in cielo di difficile tutto ciò si verifica solitariamente e serve a decidere in concreto da quale punto di differenza che cominciano a cercare il lavoro la scelta viene andata di un sordetto nel senso che si iscrivono le imprese sui bigliettini e poi si entrare a sorte quindi tutto quello che pensa alle aste dell'offerta segreta è stata scelta sta frena ma è effetto è quindi non ha alcun senso continuare a streggere sulle normative sugli apparti se poi fanno così vengono ordinati i coordinatori i quali hanno compito richiamare le imprese che saranno convocate con la casa successivamente valita per invitare a ringraziare cioè a rinunciare a dare per convincere oppure a fare un'offerta in modo da convincere tutto ciò passa ovviamente tra la sua occasione di loro della scelta segreta allora per cominciare da inquadrare i fenomeni di norme di legge e quindi però che si hanno un po' di la è un reato che è stata grave perché secondo me è stato veramente di quanto è stato chiamato anche a costruire una serie di incertenti di altra natura ma è evidente che se questa è la realtà possiamo scrivere di tutta una maniera di a parte di un anno c'è un'altra cosa è allora ovviamente dice lui qui si parte dunque voglio dire anche gli commessi e qui ho tutto rispondi poi racconti un progetto perché un altro creditore mi disse che avendo pagato diverse volte tangenti per dare affatti loro avevano pregato di portare più denaro di valigliette 24-48 ore a seconda della somma contenuta perché non poter regalare le valigliette vuote a parenti conscenti amici passanti e allora in questa situazione di valigliette vuote che non ci sono a partire allora pregavano di portare il denaro che merita di munizia facendo i partiti comunque dice si parte che voglio dire anche a livello di commesso più impattuale più persa si parte sia il ministro di l'administrazione sia il sistema dei partiti i partiti che diciamo a livello di segretario nazionale administrativo e per certi sono segretari dei partiti maggioranti e però se partito del condizionale il flusso di cui ho parlato è standardizzato da almeno 20 anni nel meno se trova da due siccome ne hanno questa cioca mercante nuova potente si può utilizzare di la vaccinazione quanto ci sia standardizzato da 45 anni ecco allora quello che dobbiamo fondare qui non è che questa cosa qui la si può affrontare con i panici radicali che sono affrontati a questa motiva o si può affrontare aumentando le le carità prima aiuta perché il perlomeno porta più là il cammino di questione ma è cosa cosa anche perché possiamo mettere le sedere del mondo se non sappiamo fidarle non c'è non niente perché il problema è la produzione che non si soffra praticamente mai quindi se tutti i giornali che ne hanno capato poco pensano che la faccina dell'essere perché la produzione è un reato cifra nera e latissima la cifra nera è tre denunciati ci sono reati in cui la cifra nera è posta allo zero due esempi furto d'auto a fare denuncia che si lo spogna rischi anche patrimoniali e se lo usa un altro veico per commette reati i forze poliziali contro ragione di una altra tutura quindi che vediamo tutte le 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 copertura statistica è totale non vuol dire che prendiamo l'utila del dato e vogli essere che sappiamo quante manche di rubate l'altro caso di copertura statistica quasi totale è quello dei lici volontari perché se viviamo una persona in Italia bisogna che si accettano il approccio della morte se il medico necroscopo non indica il certificato di morte a causa del decesso è necessario procedere ad accertamento che può essere a cura dell'utilità sanitaria che si chiama riscoglio ignostico oppure a cura dell'operabilizzazione si chiama autopsia da pubblicità scientifico della stessa operazione cambia nome se nel corso del riscoglio ignostico si vedevano un po' di reato ci sono persone autopsia quindi più o meno anche lì abbiamo una copertura statistica quasi totale è vero ci sono le persone scomparsi non viene annunciata la persona e se proprio viene annunciata si pensano un po' più a visto a se sapere che uno non si trova quindi una maniera di altra la la cultura è totale ancora una volta vogliamo prendiamo tutti gli assassini vogliamo dire se genet sappiamo quattro gli stessi sono e questo veramente è un'altra di di una di fenomeno per la perché no sono correttori intermediari non si parla davanti a testimoni non è aggredibile dalle forze polizie che sono piccolate soprattutto come organi sicure fondamentale e quindi hanno sono apprezzati hanno mezzi e orientazioni alle persone che erano visibili non erano invisibili il problema quindi è che si scopre sempre soltanto il c'è un da caso cioè facendo indagini sulle altre cose le due vie per cui si scopre il più avvoluto sono prima le indagini sulle costate e qui passato la legislatura stessa di Zarrita ai malinieri questa fonte di scompersa a confiori prima per regno sui reati finanziari per esempio il sistema concursi per i per direttori italiani che era il continente che era non ferito a collaborazione di base del sistema una volta era che basta appunto per alcun senso di tre anni con l'informo del 2000 hanno stabilito che questo reato dovrebbe essere molto buce da niente con la riusura da 2 6 anni ma pur che riberderasse sulla fiora fevere di una certa soglia così prima ha detto l'autonomo di una falsità non personale nella falsità non fantastica voglio margirlo per la droga che è una falsità non banale secondo basta scrivere in bilancio costi non deduciti e uno porta fuori il bilancio pubblicità penale anche se non pubblicità amministrativo quello che vuole però pubblicità amministrativa è dice che ha oratorie di paradiso sciogli anticis in un ambito di pubblicità amministrativo il risultato per prima fuori di segnare di cosa anche perché poco dopo è interrompata la riforma del cosiddetto falsi di l'animo di falsi negli sociali che ha esteso di pubblicità anche alle società di carità oltre ma alle società delle persone e le fisiche l'altra strada attraverso la quale si scopriva la tutta la passata perché anche questa è stata in arrivita era un principio della fisica e cioè per intonare che sia un accadimento quando l'arco temporale è abbastanza alto può verificarsi c'è una versione più comprensibile di modaggio scolare intanto va ragazzo all'anno ci lascia lo bambino allora se segnale e continuano a farlo prima colpo poi non è rotto e segue a corto da un risotto che aveva due meati trovando complicità fino a creare una sacchetta che comunque non si ha parlato è un proposto statuto che sono posizionale solo rompare di prima e se sono rompare nessuno qui l'intervento è avvenuto con la legge segnale perché quando si parla di informe da tutta ci si dimentica se era un intervento di quella che prima è stata informata accocciata oggi si dice ma la intervento della legge segnale che infatti così punta che in momento valore segnale che è stato un po' su nome e infatti erano ex segnale grazie grazie